Gioco di squadra in famiglia, il primo appuntamento di scuola per genitori a Casa Tevenin è con il dottor Daniele Novara. Sì, è un progetto ambizioso, un progetto importante. La scuola per genitori, diretta dal dottor Daniele Novara, un luminare nel settore, prenderà il via proprio il 23 gennaio alle 20.30. Saranno tre incontri, sempre in orario serale, che si terranno alla Casa delle Energie, che voglio ringraziare per l'opportunità che ci ha dato e successivamente ci saranno tre focus su degli approfondimenti appunto rispetto a quello che è stato detto e relazionato nei seminari. I tre focus abbiamo inteso organizzarli a Casa Tevenin. È tutto nel sito www.casatevenin.org, un progetto, ripeto, molto ambizioso ma che sicuramente riuscirà perché l'esperienza appunto di Daniele Novara ci insegna questo, ha fatto scuola per genitori in tante città italiane e vi aspettiamo tutti, genitori, nonni, educatori, perché poi è aperta un po' a tutti. La partecipazione è libera e gratuita, quindi il 23 gennaio per il primo appuntamento alle 20.30 alla Casa delle Energie. Perché oggi parlare di genitorialità? Genitorialità perché è fondamentale. Poi la struttura Casa Tevenin assolutamente vuol tornare al centro dell'educazione senza nulla togliere alle altre strutture, agli altri enti preposti, però vogliamo non solo fare accoglienza ma anche dare un'opportunità di crescita per tutti. I genitori non è che devono andare a scuola, però qualche nozione in più sicuramente non fa male. Grazie a tutti.